In Italia ci sono molte culture. Un anno fa sono stato a Parigi. Andiamo in vacanza in Spagna. La città di Pechino è in Cina. Il concerto è stato a Napoli. Sto per andare in ufficio. Claudia abita in questa via. Abito a Napoli da quasi due anni. Lisbona si trova in Portogallo. Stasera vado a mangiare fuori. Di solito compro in quel negozio. Dopo do a Claudia il suo regalo. In Francia si mangia molto bene. Torno a casa dopo le vacanze. Vado a fare un po' di sport. Dopo sono a cena da un amico. Voglio andare in vacanza a Pisa. Sono stato in ufficio a lavorare. Oggi dobbiamo andare a piedi. L'autobus è arrivato in stazione. Oggi posso andare a nuotare. Gliel'ho detto ieri sera dopo cena. Non riesco a farglielo ammettere. Il progetto glielo porto domattina. Se ti piacciono, te ne compro due. Il ladro non è riuscito a rubarmelo. Diglielo appena vi vedete domani. Se hai l'acqua, gliene dai un po'? Se me lo chiedesse, glielo direi subito. Hai i guanti stretti, non puoi toglierseli. Dicendotelo mi sento già meglio. I libri mi li darai domattina a scuola. Tranquillo, non devi preoccupartene. Di biscotti non ce ne sono più. Fateci trovare la macchina pulita. Glielo dico domani mattina. La polterona è comoda. Le polterone sono comode. Il letto è bello e grande. I letti sono belli e grandi. La camera è piccola. Le camere sono piccole. Il libro è lungo, ma interessante. I libri sono lunghi, ma interessanti. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Che bella casa. Che belle case. Tutta la notte. Tutte le notti. Il cavallo nero. I cavalli neri. La cravatta nera. Le cravatte nere. La cravatta verde. Le cravatte verdi. L'altra volta. Le altre volte. Questo signore. Questi signori. Questa signorina. Queste signorine. Un reparto. Dei reparti. Un sapone. Dei saponi. Un euro. Degli euro. Il cieco. I ciechi. Lo specchio. Gli specchi. La vacanza. Le vacanze. Il dottore. I dottori. I dottori. Io ho avuto. Io avevo. Tu hai avuto. Tu avevi. Lui, lei ha avuto. Lui, lei aveva. Noi abbiamo avuto. Noi avevamo. Voi avete avuto. Voi avete avuto. Voi avevate. Loro hanno avuto. Loro avevano. Mentre aspettavo il bus, ho visto un mio amico. Non ti ho scritto perché non ho il tuo indirizzo. Mentre salivano le scale, hanno visto il professore. Ho chiamato il dottore perché non mi sentivo bene. Ha chiuso la finestra perché aveva freddo. Ieri sera, dopo la festa, eravamo molto felici. Mentre andavo a fare la spesa, ho visto Lisa. In vacanza, Luca ha visitato posti molto belli. Da bambina ogni anno andava a Napoli. La settimana scorsa sono andato a Napoli. Mentre studiavo, ha suonato il telefono. Quando andavo a scuola, mi vestivo bene. Fare. Io faccio. Tu fai. Lui, lei fa. Noi facciamo. Voi fate. Loro fanno. Questa settimana fa caldo. Faccio fatica a studiare. Noi puliamo e voi fate la spesa. Dare. Io do. Tu dai. Lui, lei dà. Noi diamo. Voi date. Loro danno. Ti diamo le chiavi di casa. I bambini mi danno i biscotti. Io ti do un fiore. Stare. Io sto. Tu stai. Noi stai. Lui, lei sta. Noi stiamo. Voi state. Loro stanno. Noi stiamo a casa di Luca. Stai attento quando cucini. Gli amici stanno mangiando. Andare. Io vado. Tu vai. Lui, lei va. Noi andiamo. Voi andate. Loro vanno. Vado a casa in autobus. I figli vanno a scuola. Claudia va dal dottore oggi. Dovere. Io devo. Tu devi. Lui, lei deve. Noi dobbiamo. Voi dovete. Loro devono. Dobbiamo spostare l'auto. Devo finire il lavoro. Domani devi andare a Napoli. Potere. Potere. Io posso. Tu puoi. Lui, lei può. Noi possiamo. Voi potete. Loro possono. Non potete salire sul tetto. Luca può andare in ferie. Oggi posso uscire prima. volere. Io voglio. Tu vuoi. Lui, lei vuole. Noi vogliamo. Voi volete. Perché? Loro vogliono. Stasera voglio andare al cinema. Non vogliamo stare in auto. Vuoi un po' di cioccolato? Dire. Io dico, tu dici, lui lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono. Io dico sempre la verità. Gianni dice che deve studiare. Diteci il voto dell'esame. Venire. Io vengo. Tu vieni. Lui, lei viene. Noi veniamo. Voi venite. Loro vengono. Mia figlia viene a cena. Tu vieni da noi in macchina. Se non venite avvisateci. Uscire. Io esco. Tu esci. Lui, lei esce. Noi usciamo. Voi uscite. Loro escono. Esco spesso il fine settimana. L'atleta esce dalla piscina. Loro escono dal negozio. Esprimere. Espresso. Erigere. Eretto. Fondere. Fuso. Friggere. Fritto. Giungere. Giunto. Imprimere. Impresso. Includere. Incluso. Incluso. Intendere. Inteso. Invadere. Invaso. leggere. Letto. Mettere. Messo. Muovere. Mosso. Nascere. Nato. Nascondere. Nascosto. Nascosto. Mettere. Il nome. Il re. Il tema. L'amico. Lo sconto. I castelli. I cantanti. i laghi, l'uovo, gli inglesi, i coltelli, il cesto, gli anni, lo sbaglio, i giornali, lo studente, il libro, il giornalista, lo xilofono, gli olandesi, le camice, gli uomini, le barche, i fiori, gli scherzi, le amiche, gli alberghi, le cassette. Certamente, certo, semplice, semplicemente, facilmente, facile, popolare, popolarmente, benevolmente, benevolo, leggero, leggermente, enorme, enormemente, felicemente, felice, preciso, precisamente, specialmente, speciale, utile, utilmente, veramente, vero, lento, lentamente, elegantemente, elegante, regolare, regolarmente, tristemente, triste, vero, veramente, simpatico, simpaticamente, difficilmente, difficile, pesante, pesantemente, comune, comunemente, leggermente, leggermente, leggero, volutamente, voluto, cortese, cortesemente. Claudia chiama solo me ogni sera. Giovanni ha dato a me la sua penna. Claudia ha telefonato a te, non è vero? Lui vuole che io ti chiami stasera. Dottore, chiamo lei e non l'altro medico. Professore, le do il mio compito domani. Mia sorella telefona solo a lui per studiare. Sì, io conosco proprio lui molto bene. Ieri ho dato il tuo indirizzo anche a lei. Forse esco con lei stasera. Marco e Maria, quando uscirete con noi? Signori, quando telefonerete a noi? Domani parlerò di voi alla professoressa. Non ho dato niente a voi ieri. Sicuramente parlerò di loro al professore. Non scrivo mai a loro. Preferisco telefonare. Forse parlerò di loro al professore. No, non scrivo mai a loro. Prima di mangiare il gelato, voglio bere. Prima di mangiarlo, voglio bere. Vedendo Maria, l'ho chiamata. Vedendola, l'ho chiamata. Ecco la matita. Era caduta sotto il tavolo. Eccola. Era caduta sotto il tavolo. Ecco Giovanni e Claudia. Stanno arrivando. Eccoli. Stanno arrivando. Ecco le chiavi per te. Ecco te le. Non posso mangiare la carne. Non posso mangiarla o non la posso mangiare. Lei gli vuole dare il suo libro. Lei vuole darglielo o lei glielo vuole dare. Io ho dato i miei orologi a Marco. Io glieli ho dati.